Musica Questa collezione Uomo nasce da una mostra che ho visto a New York due mesi fa. La mostra è New York 1993 e da lì è nato l'intento di studiare quegli anni. Per me gli anni 90 sono Beverly Hills, sono Brandon, Dylan, Brenda, ma sono anche Kurt Cobain, sono il Grunge. Sono degli anni in cui ero adolescente e quindi ho provato a studiare questo mondo dell'adolescenza. E qui il collegamento con i due film, uno di Gus Van Sant, Paranoi Park e l'altro di Larry Clark, Ken Park, che parlano proprio del mondo degli skater, il mondo dello skate, insomma vissuto come stile di vita. Quindi la collezione la vedete un po', c'è un po' di grunge, c'è un po' di anni 90, c'è un po' di scostese. Poi ovviamente il tutto è fatto in chiave MSGM, quindi c'è l'ironia, c'è il colore e c'è la stampa. Musica 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 Musica